Siamo in sede Ducati in compagnia dell'ingegner Sabbioni, project manager della Iperstrada. Che differenza c'è Federico tra la Ipermotard e la Iperstrada dal punto di vista tecnico, visto che sono così simili dal punto di vista estetico? Le novità tecniche che caratterizzano Iperstrada rispetto alla base tecnica comune, che come hai detto tu è quella di Ipermotard, sono fondamentalmente tutte le caratteristiche che connotano una moto più inclina al turismo. Quindi abbiamo tentato di riportare su questa base tecnica, diciamo così, peculiarità che fino ad oggi per noi erano caratteristiche limitate al multistrada, che quindi è un'offerta più alta di gamma. Per cui abbiamo adottato la moto di un parabrezza per avere l'opportuna protezione aerodinamica, le borse laterali e il cavalletto centrale, che ovviamente consentono il turismo a medio raggio, insomma quindi con la giusta capacità di carico, un confortevole maniglione per il passeggero, che come ricorderai nella versione Ipermotard è ricavato in un recesso sotto al codino, quindi un appiglio più di fortuna se vogliamo, sospensioni a corsa un po' più bassa per avere una moto più vicina a terra, quindi per avere anche un'abitabilità e una possibilità di manovra data dall'altezza sella più opportuna, in particolare il mono posteriore è dotato anche del precarico remoto della molla e quindi la possibilità di compensare l'assetto della moto in funzione di come viene caricata. Federico, per quanto riguarda il motore, non avete pensato di dedicare alla Iperstrada una versione addolcita? Beh, perché fondamentalmente il motore 821, testa 7, 11 gradi, è già una configurazione secondo noi piuttosto orientata al turismo, quindi è comunque un testa stretta, un 4 valvole, performante, ma con una risposta con tanta coppia ai medi e quindi già con un tuning che era corretto secondo noi per l'applicazione, anche per l'applicazione Iperstrada. In più avendo comunque tutta la logica riding mode, tre diversi livelli di erogazione, due potenze ma con due risposte diverse sulla potenza massima, diciamo che il pacchetto era già configurato in maniera più che opportuna per offrire tutte le possibilità di utilizzo che l'utente volesse. Avete scelto un treno di gomme per ogni moto, davvero un gran lavoro mirato su ciascun modello. Ogni versione della famiglia è stata equipaggiata con un pneumatico specifico, partiamo dall'RSP che è equipaggiata di prima di serie con il Supercourse SP, quindi una gomma prettamente sportiva e molto performante, vocata principalmente all'uso in pista o comunque in condizioni di grip molto buone, passando per il Diablo Rosso 2 che è l'equipaggiamento IM di Hypermotard, quindi un pneumatico turistico stradale abbastanza polivalente, arrivando in ultima analisi a Iperstrada che si è meritata secondo noi la stessa gommatura di serie del Multistrada, quindi lo Scorpion Trail che è un pneumatico dalle prestazioni eccezionali che fa sicuramente della polivalenza il suo punto di forza, è un bimescola, ha un battistrada più profondo sulla parte centrale che non sulle spalle, per cui è un pneumatico con caratteristiche sia sportive sia per il light enduro se vogliamo, quindi veramente completa la polivalenza che volevamo che Iperstrada avesse. Grazie mille Federico per la disponibilità.